allora un saluto di nuovo a tutti e ben arrivati in questo in questo webinar nel quale parleremo appunto di nuvole di punti primo cos'è una nuvola di punti una nuvola di punti è fondamentalmente un oggetto 3d quale sto visualizzando una video su topos è fondamentalmente un oggetto 3d composto come dice la parola stessa da dei punti ad ogni punto sono evidentemente associate alcune informazioni quali sono queste informazioni che sono associati ai punti della nuvola in primis la la diciamo la informazione principale sono evidentemente l'informazione geometrica quindi le coordinate x y z della nuvola di punti e senza queste la nulla di punti non potrebbe tra virgolette esistere oltre a ciò quindi diciamo il minimo sindacale per poter definire una nuvola di punti è una nuvola con una serie di punti di coordinate note x y z e questo diciamo è l'inizio dopodiché ad ogni punto si possono associare altre informazioni in primis l'informazione che viene associata è come in questo caso il colore rgb del punto questa qua è una nuvola derivante da rilievo fotogrammetrico e per cui derivando da fotografie evidentemente il software strato from motion che la che la generata in grado di per così dire associare ad ogni punto anche un valore numerico che sta a indicare il colore quindi in questo modo la nuvola non è più un diciamo un insieme di una macchia di un colore definito ma è una macchia una macchia insomma è un qualcosa che ben definita che noi conosciamo bene un altro dato che in genere può essere associato alla al punto la nuvola di del punto numero dei punti va bene diciamo sono dei dati per così dire trovate secondari che possono andare dalla normale al punto la normale appunto immaginatevi fondamentalmente un piano che passa per un punto dei punti attorno la normale che parte da quel piano è diciamo un atto in più che va a definire la nuvola questa normale generalmente serve ai programmi di meshing per creare la mesh per dire guarda questo all'esterno questo all'interno della nuvola oltre a ciò è un altro dato che si può associare alla nuvola è la cosiddetta classificazione ovvero dire guarda questo punto appartiene al terreno questo punto appartiene alla vegetazione questo punto appartiene all'infrastruttura e così via per cui insomma man mano che si aggiungono informazioni la nuvola di punti questa poi insomma viene viene diventa qualcosa di più interessante dal punto di vista topografico quindi questo come come cappello iniziale per quanto concerne la questione della nuvola di punti vorrei andare approfittare insomma della di questa nuvola che ho caricato per visto che il webinar trattava vuole trattare anche per quanto con la questione che riguarda la gestione della nuvola di punti sui sui vari programmi topos in particolare ma un po' tutti e volevo fare praticamente presente che la un attimino che c'è se la prossima non ha niente niente scusate stavo dicendo la nuvola di punti dal punto di vista grafico il diciamo la la il collo di bottiglia nel trattamento della nuvola di punti non è tanto la la memoria ben che i punti sono delle per così dire entità grosse dal punto del punto di vista informatico da trattare ma il diciamo il gol di collo di bottiglia la problematica nel trattare numero di punti è quasi sempre l'output grafico questo vale per topos vale per autocad vale per tutti i croni di card e così via perché diciamo la il limite nel nella gestione delle grosse numero di punti è sempre l'auto grafico video questo motivo per cui chi più chi meno diciamo la il problema principale appunto questo allora giusto per chiarire nei programmi di distract from motion nei programmi nei quali vedi cloud compare vedi cos'è altri programmi che trattano esclusivamente nuvole di punti queste hanno il motore grafico strutturato apposta per visualizzare solamente le nuvole di punti no per cui in questi programmi le nuvole di punti viene gestita in maniera più più flessibile più timare più fluida nei programmi trovate generalisti come può essere topos ma come può essere lo stesso auto come può essere tutti i cad nei quali il motore grafico non è un motore grafico specializzato per le nuvole di punti ma è un motore grafico tra virgolette generico che deve gestire entità cad deve gestire punti topografici deve gestire immagini raster deve gestire dem e tra queste queste cose deve gestire anche le nuvole di punti per cui non è un motore grafico ottimizzato per le nuvole di punti per cui in questi programmi bisogna altrimenti scendere un po compromessi perché vi ho fatto tutta questa premessa perché per introdurvi una la questione che riguarda la per così dire gestione grafica della nuvole di punti su topos se andiamo io adesso qua cliccato su file impostazioni programma e andiamo su aspetto vediamo che ci sono alcune alcune opzioni che riguardano specificatamente la gestione grafica della nuvole di punti in particolare in particolare la prima che troviamo è qualità grafica della nuvole di punti in output c'è questo slide bar qua che si può diciamo spostare o a sinistra o a destra cosa significa significa che se io lo sposto completamente a sinistra vado privilegiare quella che la velocità dell'auto un grafico no però alla mano una maggior velocità dell'auto un grafico come si vede adesso corrisponde evidentemente una minore qualità grafica della nuvole di punti viceversa se io vado sempre qua su aspetto e vado ad impostare la slide della parte massima qua ottengo una qualità massima dell'auto un grafico con una conseguenza di una diciamo maggior latenza nella visualizzazione della nuvola stessa però questa qua è abbastanza intuibili poi dipende insomma dai computer eccetera si può modificare quando si vuole questa questo questo aspetto qua la cosa che mi preme dire che è importante è che è questa fu questa per così no quando sbagliato la regolazione della qualità va a inficiare va a toccare solamente quella che è l'auto un grafico non va a modificare quella che la caratteristica intrinseca della nuvola ovvero se la nuvola viene visualizzata in questo modo qua adesso faccio un esempio nella quale la grafica tra virgolette è più snella no non significa che io perdo anche la qualità per quanto concerne la precisione topografica di punti le punti i calcoli il programma li fa sempre su tutti questi qua sono aspetta che vedo mi ricordo mi sembra sino sono circa 14 milioni di punti il il programma utilizzerà sempre tutti i 14 milioni di punti per calcolare per fare le elaborazioni è solamente una questione di output grafico faccio un esempio supponiamo che io adesso qua o una una mappa del catasto no voglio e voglio qualche modo lucidarla insomma ma voglio lucidarla come voglio lucidarla ripassarla solamente non le due di ma voglio anche per motivi che mi servono a mettere a vedere le pendenze per vedere che ne so dove vanno scolo delle acque eccetera sui confini attribuire anche il dato altimetrico no per cui cosa come posso fare posso allora per rendermi la grafica tra virgolette più più snella e più più veloce so che con 30 milioni di punti la differenza si vede poco mi immaginiamo di avere una nuvola di punti di 50 60 80 milioni di punti anche più allora nel qual caso lì la differenza si sente no per cui supponiamo che dobbiamo provare in questo modo andiamo sempre sulle impostazioni generali del programma andiamo sul sistema e andiamo a selezionare quota z piano cadena da nuvola di punti sottostante andiamo a prendere che ne so un layer qua marciapiede quello che è vado con il cad comando polilineo in questo caso e vado a disegnarmi la mia particella in questo caso il programma quando si vede si compare in azzurro z da nuvola di punti perché il programma va a a interpolare automaticamente la quota dalla nuvola di punti sottostante anche anche se la nuvola di punti è visualizzata con la minima risoluzione possibile questo non c'entra nulla l'ho fatto questo esempio per ribadire che non c'entra nulla con la precisione dell'interpolazione che fa il programma il programma per interpolare la quota utilizzerà sempre tutti quasi 14 milioni di punti anche se queste video sono visualizzati in maniera più più sparsa meno densa ok quindi questo come come prima cosa che sulla gestione grafica della nuvola di punti qua ho attivato la trasparenza ok altra cosa altra cosa che riguarda la gestione grafica della nuvola sempre su aspetto andiamo a mettere insomma una visualizzazione un po più degna quindi per stavo dicendo a quindi la nuvola dal punto di vista grafico è una per così dire entità è un postica da trattare e quindi sui topo scompreso sottoscritto compreso sì ci si cerca di diciamo utilizzare degli così dire degli algoritmi e delle e dei dei sistemi per migliorare l'autografico uno di questi sistemi è quello di utilizzare praticamente dei cosiddetti metodi e sincroni per il disegno della nuvola che praticamente si attiva attivando di default è sempre attivata ma diciamo la visualizzazione sincrona delle nuvole e si attiva utilizzando questo flag qua qual è la differenza tra la visualizzazione sincrona e la visualizzazione normale se noi adesso attiviamo la visualizzazione normale adesso magari qua non si vede tanto però finché la nuvola non viene aspetta che provo a caricare una nuvola un po più un po più grossetta così magari la cosa si nota meglio devo caricare questa sì qui ce ne sono anche di più ecco il popolo una cosa che ecco si vede meglio qua siamo già a circa 67 milioni di punti disattivando la visualizzazione sincrona delle nuvole il mouse rimane bloccato meglio bloccato diciamo il programma rimane bloccato finché la nuvola non viene vedete finché la nuvola non viene visualizzata completamente per cui diciamo il finché il c'è questo diciamo ritardo nel darti nel consentire di utilizzare i comandi del programma viceversa se noi andiamo ad attivare la visualizzazione sincrona dalle nuvole di punti ok la situazione cambia nel senso che la nuvola viene gestita da un processo separato quindi anche anche io appena appena alzo il mouse ho già ho già il comando già il controllo sul su quello che è il programma per cui la nuvola va diciamo e funzioni del programma vanno per i cavoli loro mentre la nuvola si il disegno della nuvola va anch'essa su un processo separato questo è ottimizzato anche sui moderni computer che hanno multicore più processori questo diciamo è un è un diciamo un'ottimizzazione che che utilizza anche questo tipo questo tipo di caratteristica hardware degli ultimi computer insomma quindi se vogliamo disegnare se utilizziamo per dire il comando polilinea adesso per fare un esempio andiamo qua su un layer vabbè quello che è possiamo andare a disegnare la linea anche se la nuvola non è completamente visualizzata video perché la nuvola viaggia su un suo processo separato le differenze sono sono minime però nel disegnare nella nella user experience del disegno nel avere sempre il controllo questo alla fine a lungo andare fa la differenza quindi è un'ulteriore ottimizzazione che che su topos ho implementato per quanto concerne la gestione delle nuvole di punti in particolare la gestione delle nuvole di punti con grosse quantità di punti di dati mi sono dimenticato di come sono preparato al volo 23 23 appunti sì mi stavo dimenticando di di dire che le nuvole di punti vengono topos e supporta supporta fondamentalmente il formato principe che è formato l'ass però poi il formato pl y è ultimamente ho anche introdotto il formato e 57 il formato e 57 però benché supportato l'ho supportato non in maniera nativa non direttamente ma ha trovato una libreria su internet che che si interfaccia questo formato quindi ho inserito questa libreria per importare il formato e 57 a me non piace utilizzare librerie esterne sul software perché poi sono cose di cui hai poco controllo però intanto questo qua mi ha permesso insomma di di attivare una funzione con poco con poco con poco spesa di tempo fermo restando che però non trattandosi di traduzione libreria esterna che non funzioni direttamente all'interno del programma l'importazione è lenta per cui la sconsiglio per nuvole di grosse dimensioni sia una nuvola medio piccola se la posso utilizzare nuvole di grosse dimensioni questo è difficile perché poi i tempi di caricamento sono veramente alti per cui utilizzate sempre il formato l'ass o il pl y che sono e sono i formati migliori una volta che il il file viene importato il file as e importato per importarla in uno dei punti si va qua su modelli 3d in out e con il comando importanuvola seleziono il file l'ass in questo caso lo vado ad importare una volta importata la nuvola il file l'ass il programma chiede di salvare la nuvola su un suo formato proprietario questo non perché l'ass gli sia antipatico ma semplicemente perché l'ass è un formato generico che va bene per windows va bene per linux va bene per macintosh va bene per tanti eccetera per cui non è un formato ottimizzato no questo significa che i tempi di caricamento e salvataggio del file as sono importanti diciamo sono maggiori rispetto a un formato come io l'ho chiamato un uv per chiamarlo come volevo un formato ottimizzato per windows in particolare per software che lo sta utilizzando per cui non è una diciamo così un voler precludere l'utilizzo della nuvola da altri è solamente una questione di ottimizzazione fatto sta che poi la nuvola di da topos può essere esportata benissimo in formato l'ass e essere sfiderata a qualsiasi e queste persone che voglia che necessiti di utilizzarla altra cosa che poi poi terminiamo questa cosa qua riguarda la gestione multinuvola di topos ovvero ovviamente la dimensione delle nuvole di punti non è che può essere infinita su topos caricato sono arrivato a caricare nuvole fino quasi era 190 milioni di punti dopo di che è la cosa diventa difficilmente gestibile dal punto di vista sia della memoria e sia della dell'autografico motivo per cui su topos esiste in questo caso la possibilità della gestione multinuvola ovvero se una nuvola è di grosse dimensioni può essere suddivisa in più sotto nuvole in questo esempio poi che lo vedremo e la divisione in più sotto nuvole poi come vedremo più avanti ha più scopi ha lo scopo quello di per così dire gestire la memoria ma anche lo scopo poi di suddividere la nuvole magari in porzioni omogenee da trattare con determinati algoritmi questo perché lo sto dicendo sto dicendo perché in questo caso le nuvole del programma sono 23 sono 7 per in realtà adesso ne ho caricata solo una che è questa qua nuvola totale di circa 67 milioni di punti i file della nuvola di punti non sono inseriti come immaginate ma non lo fa solo topos ma anche su qualsiasi caso non sono inseriti all'interno del file del programma in questo caso thp come non sono inseriti sui file dvg di autocad non sono inseriti su perché la nuvola di punti ha diciamo delle dimensioni importanti che è impossibile salvarli quindi all'interno del file dvg all'interno del file thp di topos viene salvato solamente il percorso di riferimento dove andare a trovare il file move per cui quando io carico il file di topos i file delle nuvole non sono caricati le file della nuvola viene caricato nel momento in cui questo effettivamente mi serva perché non è detto che io supponiamo che io abbia già elaborato modello 3d abbia già fatto una nuvola in quel momento non mi serve quindi non ha senso che io vado a caricarla vado a diciamo a riempire la ram a mettere sotto sforzo l'hardware per una cosa che non mi serve e anche nel momento in cui io avessi caricato tante nuvole e poi queste non mi servono può succedere che magari caricando tante nuvole avendo un computer magari con non tantissima ram può succedere che la ram si esaurisca e in l'hard disk inizia a svappare inizia a lavorare con l'hard disk con un rallentamento pauroso di tutto il sistema in questi casi in questi casi è possibile scaricare dalla memoria le nuvole che non servono utilizzando il comando scarica da memoria questo comando non va ad eliminare la nuvola la nuvola rimane non succede nulla solamente la nuvola che non serve viene tolta dalla ram viene scaricata in questo modo si alleggerisce la ram si alleggerisce la memoria del computer e questo mi raccomando improvvisamente inizia a lavorare in maniera più fluida più lineare evitando appunto quei problemi che vi dicevo prima per cui altro comando che magari tanti non utilizzano è questo qua quando io ho tante nuvole che non ho insomma una nuvola grossa o quella nuova non mi serve o altre o più nuvole lavoro solo con una posso scaricarla dalla 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 memoria e per poi insomma lasciare lì momento in cui mi serve la nuvola molto semplicemente vado a cliccarci sopra il programma mi chiede voi caricarla e se mi serve la carico e se non mi serve non la carico molto semplicemente questo diciamo come panoramica per quanto riguarda riguarda la gestione delle nuvole per quanto con la memoria la gestione poi delle delle sì della 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 grafica e così via detto ciò io adesso ci sono domande qualcosa che ne approfitto per vedere allora vediamo un po che vedo mi sono perso qualcosa da un'occhiata se qualcuno volesse volesse pormi una domanda a voce non c'è nessun problema e mi dice mi fa voglio fare una domanda e io gli attivo gli attivo la microfono e la fa insomma senza se uno non ha voglia di mettere vuole di esprimere un concetto che a voce si capisce meglio siamo siamo qua insomma dai c'è nessun problema così sento anche qualcuno anche delle vostre voci perché non è simpatico parlare un monitor anche se so che dietro al monitor ci siete voi però ok allora le dimensioni in giga per rispondere a cose ramiro anche ai si le dimensioni in giga non contano poco e nulla nel senso che quello che conta sono i milioni di punti sono quelli che alla fine fanno la differenza o dicono guarda che la nuvola è grossa una nuvola è piccola la dimensione in giga dipende dal formato in cui è salvata dipende da tante cose per cui non è diciamo un dato che non è significativo infatti nel momento in cui si parla sempre di milioni di punti perché sono quali alla fine che vanno che vanno direttamente sulla memoria e quelle che vanno ad occupare spazio può fare un esempio di sovrapposizione sul rilievo mettere in scala si dai vediamo allora era diciamo la parte successiva dell'argomento della 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 trattazione diciamo da diamo per per esaurito la ok stavo guardando si stavo dicendo chiudiamo questa parte della prima parte dell'argomento che riguarda così la la trattazione la gestione della nuvola di punti grafica memoria eccetera andiamo nella parte fosse più interessante che quella dell'estrazione di dati topografici allora prima cosa importante la fotogrammetria ci consente di risparmiare parecchio tempo in fase di rilievo finché non senza la fotogrammetria era impensabile fare rilievi di queste dimensioni qua siamo quanti metri quadri più o meno siamo 20 24 ettari sì in poco sì in poco tempo però diciamo il tempo che si guadagna in campagna non proprio tutto deve essere tre rette speso davanti al computer per trattare per gestire la nuvola di punti questo perché perché è impensabile dare in pasto le fotografie al software strato promotion ricavare la nuvola densa ed è poi questo partire subito con il modello 3d questo lo dico non perché insomma è un po e c'è qualche anno insomma che che ho a che fare con uno dei punti e qualche anno che ho a che fare con l'assistenza e vari clienti eccetera e non vorrei far passare il messaggio che faccio due click o la nuvola il mio rilievo fatto non è assolutamente così una parte importantissima che riguarda la gestione della nuvola dei punti e la cosiddetta parte che riguarda chiamiamola così la pulizia della nuvola stessa che è un'operazione che deve essere fatta ancora prima della cosiddetta georeferenziazione o registrazione che dir si voglia una prima parte della pulizia della nuvola è auspicabile farla direttamente all'interno del software di strato un from motion tutti i programmi io conosco metashape ex photo scan una volta elaborata appena elaborata la nuvola densa ci sono c'è il comando di selezione che ti consente di selezionare i punti e cancellarli anche perché tutti i programmi di strato from motion quando genero nuvola densa spesso e volentieri generano i cosiddetti punti di rumore che sono dei punti sparsi che non centrano nulla col territorio che però derivano dalla dall'elaborazione fotogrammetrica ci sarebbe anche qua delle cose da dire ma insomma non voglio entrare intanto nello specifico questi punti di rumore sono dei punti che vanno cancellati perché il poi quando vado a lavorare il modello 3d eccetera succede magari c'è un puntino in giro mi fa la punta del triangolo io in planimetria non me ne accorgo faccio un calcolo dei volumi vengono fuori i volumi completamente sballati ma perché per semplice motivo che voi dimenticato questi nuvoli per cui primo importante procedere alla pulizia della nuvola la pulizia può essere fatta come dicevo sul software di strato from motion o se no anche all'interno di topo se qua volevo arrivare c'è la possibilità di fare la pulizia dei punti della nuvola il comando si trova sotto il menu modifica edita punti della nuvola nel momento in cui do il comando il programma mi invita dimmi quale nuvola vogliamo editare in questo caso vado ad editare questa nuvola qua nuvola totale ok qualche istante che il software fa partire il programma che edita la nuvola che questo qua che vediamo video da questo da questo diciamo menu esterno abbiamo la possibilità di per così dire selezionare i punti della nuvola e cancellare quelli che non mi servono andiamo qua nel menu selezione adesso qua la nuvola questa qua è già pulita però insomma supponiamo che questa parte qua voglio eliminare perché non mi serve utilizzo in questo caso la selezione libera e vado a selezionare tutti questi punti che non mi servono tasto destro conferma ecco i punti sono diventati di colore rosso cancella selezione ed ecco che i punti sono stati eliminati per cui questa è un'operazione fondamentale nella quale dobbiamo investirci del tempo mi raccomando non è una cosa banale questa diciamo il tempo che risparmiamo in campagna non proprio tutto per carità ma il una parte del tempo che viene risparmiato in campagna utilizzando questo tipo di metodologie deve essere utilizzato in ufficio davanti al computer per fare questa opera di pulizia di sistemazione della nuvola perché se una nuvola non è ben pulita poi anche il dato dei modelli 3d che ne usciranno ovviamente saranno anche quelle poco affidabili per cui importante importante pulire la nuvola di punti una volta che la nuvola di punti è stata pulita sistemata o su topos o la possibilità di modificare la nuvola esistente quindi la nuvola che avete visto su topos viene modificata con i punti eliminati o se no con questa opzione qua andare a creare una nuvola di punti pulita quindi qua in questo caso si utilizza la gestione multinuvolo del programma ovvero la nuvola di punti sporca definiamola così rimane lì salvata nessuno la tocca posso scaricarla dalla memoria come abbiamo visto prima perché non mi serve e vado a lavorare sulla nuvola pulita in questo modo qua in questo caso non mi serve faccio nulla modifiche però è questa diciamo è il comando specifico per fare come dire la la prima pulizia su la prima pulizia della nuvola di punti una volta che la nuvola di punti è importata allora facciamo facciamo una 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 per così dire differenziamo le cose mi spiezo mi spiego la nuvola di punti può essere importata in due modalità ovvero una nuvola di punti importata non in scala ovvero con un suo sistema di riferimento completamente casuale ballato allora in questo caso è necessario procedere alla cosiddetta georeferenziazione della nuvola allora tutti i comandi di di georeferenziazione della nuvola si trovano sotto il menu registra questa va beh apro una parentesi questo deriva la termine registra deriva dal termine anglosassone point set registration che praticamente riguarda quelli serie di algoritmi che servono per diciamo unire dei punti nello spazio ovvero da da una serie di punti nello spazio altri diciamo per per così dire unire dei punti omologhi all'interno dello spazio questa procedura viene appunto chiamata point set registration da cui in alcuna cattiva traduzione a mio modo parere a mio parere è si adesso ha preso piede il termine registrazione per diciamo registrare per mettere in scala una nuvola in realtà in italiano registrazione altri significati però insomma mi sono adeguato anch'io perché sono la 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 tra virgolette la 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 prassi è questa per cui registrazione sul menu registra non non c'entra nulla con i video registrazione eccetera ma c'entra sul fatto di scalare e sistemare la nuvola di punti e metterla appunto in far occupare lo spazio geografico corretto per registrare la nuvola di punti ci sono vari comandi georeferenziazione su target che è quello che ci sono tanti video dove faccio vedere anche questo caso il video che è quello che consente di individuare dei target sulla nuvola e poi inserire i cosiddetti corrispettivi punti omologhi e e quindi poi vediamo questo ne trovo uno eccolo qua si vede benissimo però questo è il c'è un target lì e serve appunto per georeferire la nuvola metterla in scala e farla sovrapporre ai target questa è la procedura che ho anche e no fermento diversi o ha sempre con questa funzione è una specie anzi è una sorta di rototraslazione 3d tutti e tutti sappiamo utilizzare rototraslazioni sui raster eccetera è il concetto identico anche sulle nuvole di punti solo che a posto di lavorare sul 2d si lavora semplicemente sul sulla terza dimensione per cui questo è quello che riguarda la la parte georeferenziazione della nuvola non faccio vedere un esempio qua è già georeferita però insomma a limite poi nel nella registrazione del webinar vi faccio vedere il video dove dove praticamente faccio vedere dove vengono inseriti dei punti dei punti omologhi e così via l'unica cosa che adesso qua voglio voglio farvi vedere è come poter utilizzare lo snap su punto nuvola per selezionare i punti perché questa è una cosa diciamo importante perché migliore è la selezione del punto del target migliore poi anche la georeferenzia della nuvola per cui su topos tra i vari snap ad oggetto che poi vediamo esiste anche lo snap ad oggetto su punto nuvola che è il penultimo qua della lista lo snap ad oggetto su punto nuvola è configurabile in tre volette sotto snap sotto sotto per così dire opzioni per modificare le opzioni di snap su punto nuvola vado su menu qua nuvole di punti modo di selezione e ho tutta una serie di opzioni che mi consentono di configurare lo snap su punto nuvola in particolare l'ultimo selezione con finestra di dettaglio mi dà la possibilità di andare faccio un esempio andiamo qua per dire qua sul t 14 vedete che c'è un target no adesso utilizziamo il comando georeferenza su target anche se non è se non è diciamo indispensabile vado a selezionarmi il primo target quindi clicco in corrispondenza dove vedo il target qua non devo tanto preoccuparmi insomma di andare a beccarlo in maniera precisa clicco il e compare questa finestra di selezione nella quale ho la possibilità di zoomare o la possibilità di aumentare i pixel o la possibilità eventualmente nel caso in cui la nuvola siano nuvola 3d per cui ho diversi livelli sui target spostando il piano di taglio in alto in basso o la possibilità di isolare il punto che mi serve per cui in questo modo sul target o la possibilità di scegliere il punto del dettaglio della nuvola quello che più si avvicina al centro del target quindi questa funziona sia nel 2d questa nel 3d qui questa è l'opzione appunto che l'ultima che ho introdotto su topos che ti dà appunto questa possibilità di individuare nel dettaglio un punto in maniera dinamica perché a differenza di tutti gli altri snap ad oggetto che sono gestiti in maniera dinamica ovvero quando io faccio snap su fine linea snap eccetera dinamicamente lo snap viene visualizzato c'è il quadratino sulla fine linea c'è il cerchietto sul centro del cerchio così via sulla nuvola di punti capite è impossibile gestire dinamicamente un diciamo un 50 60 80 100 milioni di punti perché dal punto di vista diciamo computazionale sarebbe impossibile per cui lo snap su punto nuvola non viene gestito dinamicamente però con questo definiamolo così piccolo stratagemma quindi abbiamo detto con lo snap con su finestra di dettaglio è possibile gestire dinamicamente anche lo snap su punto nuvola e se li faccio vedere vedete che man mano che mi sposto con il mouse il cursore viene gestito dinamicamente per cui posso o la certezza in questo caso mentre cliccando direttamente sulla nuvola non ho la certezza di che punto vado a prendere anche se insomma attivando le varie opzioni insomma programma va a prendere il punto relativo all'opzione che ho attivato in questo caso la certezza di andare a prendermi il punto che vado perché lo vedo in anteprima per cui questo insomma anche è un comando una funzione interessante importante per quanto concerne la per così dire l'estrazione dei dei dati dei dati topografici del meglio anche che ne so se devo un quando parliamo di estrazione di dati topografici della nuvola non è solamente il modello 3d non è solamente curve di livello modello 3d eccetera ma anche il fatto stesso di dover andare a disegnare lucidare della nuvola inserirci un che ne so un pozzetto inserirci un albero qualcosa per cui con questo snap qua la possibilità di scegliere nel dettaglio il punto devo inserire i nuovi punti topografici così via e della possibilità di selezionare al dettaglio il punto che serve a me altre altre funzioni che riguardano la registrazione della nuvola di punti sono tutte queste qua che poi sono lo spostamento la scalatura su distanza la rotazione 3d e così via insomma sono tutta una serie di funzioni insomma che sono sto non sto a spiegare perché insomma ritengo siano abbastanza intuibili quello che volevo che volevo adesso affrontare l'ultimo questa ultima parte qua e la parte inerente appunto l'ala per così dire l'estrazione vera e propria del dato del dato topografico no allora partendo da da questo esempio qualche che vediamo questo caso qua abbiamo una nuvola dito di circa abbiamo 67 milioni di punti nella quale abbiamo la necessità di estrarre di o tirar fuori in questo caso modelli 3d del terreno insomma poteva essere anche altre altre anche attità punti topografici e così via allora il fatto di lavorare all'interno di un programma di topografia che gestisce non solamente le nuvole di punti ma gestisce anche la parte la parte topografica quindi la parte cad la parte punti eccetera ha il vantaggio di andare a supplire i limiti nel ca nel nella creazione del modello 3d derivanti solamente dalla nuvola mi spiego meglio supponiamo che ho fatto il mio rilievo fotogrammetrico con la nuvola di ottenuto nuvoli punti però ci sono alcune zone del territorio che non sono non è non è stato possibile rilevare perché c'è vegetazione o perché una serie di motivi non è possibile stato fare i voli non è possibile stato ricostruire con i punti questi punti quali ho rilevati in maniera tradizionale o con gps operazione totale se io mi dassi diciamo mi limitarsi solamente la costruzione modello 3d con una nuvola di punti otterrei solamente metà del mio lavoro invece lavorando appunto all'interno di un software che ti consente di gestire tutti questi dati in maniera in maniera assieme mi dà la possibilità di affrontare sia la parte della nuvola di punti ma la possibilità di affrontare anche la parte che riguarda il rilievo diciamo la gestione del dato topografico tra virgolette tradizionale per per la creazione dei dei modelli 3d da nuvola di punti tutti i comandi si trovano all'interno del menu che vediamo qua menu crea oggetti allora nel caso di nuvole come questa qua nella quale sì e ci sono alcune zone nella quale che vediamo benissimo qua ci sono delle zone nelle quali tipo quadri di vegetazione laghetti e così via che capite che non fanno parte non possono entrare far parte del modello 3d per ovvi motivi sono perché quando farebbe un modello al termino che va solo appunto dell'albero che non c'entra nulla per cui le alternative qua sono due o mi elimino tutta questa parte di vegetazione o con l'editing che avete visto prima o in alternativa su topo se possibile se io nel modello 3d voglio eliminarmi questo laghetto qua con il semplice comando polilinea adesso qua vado a disattivare su modo di selezione vado a prendermi che ne so il comando il punto vicino non più con la finestra del dettaglio in questo caso il programma va a prendermi il punto nel tracciamento della polilinea va a prendermi il punto più vicino al clic del mouse no per cui come vedete la modalità di selezione diversa mi traccio una polilinea chiusa e vado adesso qua chiudo insomma anche se non è così insomma è nell'elaborazione poi successiva nel modello 3d il programma automaticamente va ad escludere i punti all'interno della polilinea chiusa per cui primo metodo per escludere per escludere e delle zone che non servono altro metodo che ho utilizzato qua per escludere i punti che non servono è quello di utilizzare il comando mero la modalità multinuvola che ha topos la modalità multinuvola mi dà la possibilità di prendere questa nuvola qua e suddividerla in più nuvole in modo da poterle poi trattare separatamente faccio un esempio supponiamo che io debba faccio un rilievo di un territorio e questo territorio ha delle orografie diverse c'è magari una parte abbastanza pianeggiante e una parte è piuttosto frastagliata magari con 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 cave con con il terreno è diverso allora trattare per intero una nuvola di questo tipo non è semplice perché gli algoritmi di estrazione terreno per dire che vanno bene sul terreno frastagliato non sono gli stessi che vanno bene sul terreno quasi pianeggiante per cui è impossibile trattare nella propria interezza una nuvola di questo tipo motivo per cui quando ha a che fare con uno di questo tipo la prassi comune quella di suddividerla in sotto nuvole e trattare separatamente per ognuna come si fa a in questo caso vabbè in questo caso non ho dovuto suddividerla perché c'era della vegetazione sono mi ricordo insomma ho fatto questa scelta qua perché le mi è sembrata la più semplice e la più e la più e la più fattibile insomma per poter suddividere una nuvola si utilizzano sempre i comandi i comandi cad ovvero adesso qua vi è già fatti allora in questo tipo di trattazioni quando faccio nuvole di punti vi metto di fronte al al fatto al diciamo l'elaborazione già fatta non perché non voglio far vedere l'elaborazione su topos ma molto semplicemente siccome queste sono tutte elaborazioni che riguarda che richiedono un po di tempo no allora o stiamo qua ad aspettare che il programma elabori o sto qua a spiegare il concetto è fondamentalmente questo per cui quando quando ci fanno queste esposizioni mi preparo già un esempio già pronto tra virgolette e poi faccio vedere il comando però non lo porto a termine non perché non dopo sa problemi non voglio portarlo a termine ma perché poi evidentemente i tempi di attesa sarebbero tali insomma non compatibili con un webinar di di un ora non è qualcosa detto ciò stavo dicendo per poter generare delle sottonuvole molto semplicemente con i comandi cat mi vado a tracciare una polilinea chiusa l'ho tracciata questa qua gialla che si vede a video vado a tracciarmi una polilinea chiusa e mi vado a contornare quella che dovrà essere la mia sottonuvola una volta che ho tracciato la mia polilinea chiusa vado nel menu modifica utilizzo il comando ritaglia il programma mi chiede seleziono la nuvola da ritagliare le nuvole si selezionano qua da sinistra a questo punto mi chiede selezionare la polilinea chiusa di ritaglio vado a selezionare questa ok c'è dopo questo mi dice che punti devo eliminare elimino i punti esterni elimino i punti interni faccio un buco una ciambella insomma o più all'interno in questo caso quando ho utilizzato il comando ho selezionato l'opzione est esterni per selezionare per eliminare i punti esterni quello che alla fine ho ottenuto è stata questa nuvola quale solo vado a caricare andiamo spegnere per spegnere accendere nuvole o lo faccio con layer o semplicemente vado a cliccare qua ecco quello che ho ottenuto è questo quindi semplicemente una sottonuvola che nella quale devo sto lavorando nell'ipotesi in cui così vi faccio vedere nell'ipotesi in cui la nuvola principale questa non mi serve più perché bom io devo lavorare solo qua la nuvola principale non mi serve e sono diciamo un po al limite con ram sto lavorando molto semplicemente vado su in out scarica la memoria seleziono la nuvola scaricare se non è successo nulla la nuvola non è stata cancellata in questo momento ho solamente liberato la ram no nel momento in cui la nuvola dovesse nuovo servirmi molto semplicemente ci clicco sopra e la vado a ricaricare per cui questo comando è utile per come dicevo come vedete insomma non ha la nuvola non hanno scappato andata da nessuna parte è stata ricaricata semplicemente adesso per questo giusto giusto per farvi vedere da questa tra rete sotto nuvola poi sono passato al per così dire generazione del modello 3d del terreno però qua c'è un altro problema qual è il problema il problema è che qua vediamo che c'è parecchia vegetazione qua non si nota però sono dei cespugli dell'altezza dei 50 60 centimetri anche quindi capite che se io mandassi in pasto l'algoritmo di creazione del modello 3d a questa a questa nuvola qua così com'è il programma poi lo fa senza nessun problema però andrei a creare un modello 3d non del terreno un ds un dtm ma deve creare dsm andrei a creare un modello 3d sulla sulla punta dei dei cespugli degli arbusti che in realtà non mi va bene mettersi a eliminare a mano tutta questa vegetazione qua è improponibile in questo caso è utile utilizzare utile utilizzare auspicabile utilizzare delle funzioni di estrazione automatica del terreno topos a utilizza anche lui ha una funzione di questo tipo e si trova qua crea oggetti e estrai terreno da nuvola io utilizzando questo comando compare questa finestra nella quale vado prima a selezionarmi la nuvola sul quale devo lavorare in questo caso nuvola nord est che la sotto nuvola e poi vado a inserire alcuni dati adesso finisco tolgo la finestra per indicare quali sono questi questi dati eccetera larghezza della maglia di ricerca allora la maglia di ricerca fondamentalmente è una maglia all'interno della quale funziona così fondamentalmente l'algoritmo allora il programma suddivide la nuvola in sotto nuvole corrispondenti alla maglia di ricerca delle diciamo delle una maglia quadrata che va a coprire l'intero l'intera area della nuvola e all'interno di ogni quadrato della maglia va a ricercare il punto di quota minima quel punto di quota minima all'interno della maglia regolare verosimilmente corrisponde a un punto del terreno per cui quando io vado a selezionare una ma la larghezza della maglia devo fare in modo che nessuna di questa maglia che sia talmente piccola che faccio un esempio adesso andiamo su misure distanza adesso magari qua facciamo una qua sono circa un metro se mettessi una maglia di un metro ci sarebbero grosse possibilità che una maglia intera vada a cadere sopra la vegetazione per cui il punto di quota minima sarà sempre un punto facente parte della vegetazione per cui devo scegliere una maglia tra virgolette non tanto grande perché se è tanto grande poi va a per così dire a non va a seguire il terreno in maniera regolare ma neanche tanto piccola perché perché se metto una maglia tanto piccola poi questa va c'è il rischio che una maglia internamente mi cadi mi cadi completamente all'interno della della vegetazione apro una parentesi sto sulle prossime versioni di topos ci saranno sto mettendo a punto degli algoritmi di analisi delle nulla di punti ovvero degli agli delle 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 funzioni che ti permettano perché mi sono reso conto che tutti gli automatismi ma non solo su topos cloud compare ma tutti i programmi che utilizzano automatismi il risultato finale dipende moltissimo dai dati di input che io che inserisco all'interno dell'automatismo e non essi non è banale per cui mettere a punto delle funzioni dei comandi che ti aiutano nel scegliere il dato da da mettere ritengosi una cosa importante dove sto lavorando in questo periodo anche su questo su questo fronte per cui magari non non è escluso che nelle prossime versioni ci saranno anche delle funzioni che ti permettano di aiutarti a scegliere la larghezza della maglia adesso la maglia deve essere inserita così a intuito tra virgolette però insomma se ho anche dei riscontri oggettivi e poi poi questo mi permette di fare delle scelte più ponderate detto ciò appunto la maglia viene scelta in questo modo per cui andiamo su modelli 3d e crea oggetti estrai terreno da nuvola quindi andiamo a selezionare la nuvola qua mettiamo una maglia in questo caso dieci metri però dieci metri qua sono tanti diciamo che con quattro metri se non ricordo male l'algoritmo funzionava offset massimo punti terreno cosa significa questo dato significa che la distanza massima l'altezza fondamentalmente massima degli degli arbusti della vegetazione ovvero partendo dal modello 3d approssimato del terreno perché con tutti i punti di quota minima all'interno della maglia topos costruisce un modello del terreno quello rappresenta un modello approssimato del terreno da quel modello approssimato posso dire guarda che tutti i punti che in questo caso che sono più alti di 50 centimetri rispetto al modello approssimato del terreno vengono eliminati in questo modo capite che tutta la vegetazione case vegetazione eccetera viene automaticamente eliminata questo è l'algoritmo che utilizza anche metashape e quindi non sono cose ma è una prassi abbastanza comune questo tipo di calcolo in questo caso io trattandosi di arbusti non tanto altissimi se non ricordo male ho messo un 15 centimetri insomma angolo deviazione massima adesso può spiegarlo un po complicato insomma 30 gradi in genere vanno 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 bene fondamentalmente l'angolo se io passo da terreno a un albero ho improvvisamente una per così dire una variazione angolare importante se so terreno terreno la variazione angolare minima se passo da terreno a un albero ho un fabbricato la variazione di terreno di di angolo e brusca e quindi a questo angolo qua sta ad indicare anche quello tutti le variazioni di angola e angolari brusche superiori ai 30 gradi centesimali sono considerate come manufatti sono considerati come come edifici eccetera da eliminare però insomma 30 gradi in genere funziona il progetto il gel l'algoritmo genera una nuova nuvola per cui su questa nuova nuvola devo evidentemente darci un nome un layer e un file quello che ho ottenuto adesso l'algoritmo non lo faccio funzionare per i motivi che ho poc'anzi esposto ma l'ho già fatto prima quello che ho ottenuto è questo qua dove tutti questi buchi rappresentano dove il programma ha beccato gli arbusti più grandi e che ha eliminato apro una parentesi qua va beh qua eliminato ha eliminato un po più di terreno ma insomma situazione abbastanza pianeggiante quindi non ci sono problemi il vantaggio ulteriore appunto di lavorare all'interno di un ambiente integrato come come c'è la topos e anche quello punto di generare modelli 3d non solamente le nuove di punti ma da anche dal dato topografico allora supponiamo che io oltre aver fatto il rilievo con i target mentre andavo in giro ma l'ho fatto mentre si va in giro fa rilievo di target ogni tanto si batte anche dei punti random visto che sto camminando col gps prima di arrivare sul target ogni tanto si battono dei punti random in giro no ecco questi punti random sono dei punti presi sul terreno col gps allora se questi punti sono attivi e sono interni alla polilinea che ho tracciato nell'elaborazione del modello 3d topo ne tiene conto per cui non tiene conto solamente dei punti della nuvola ma all'interno del motore di elaborazione del modello 3d utilizza sia i punti a nuvola ma utilizzanti punti target i random che ho messo non solo supponiamo che qua abbia avuto ci sia una discontinuità eccetera se io con il cad utilizzo vado ad inserire una polilinea aperta che va ad indicarmi quella che è la famosa discontinuità no che siamo tutti abituati ad utilizzare nei modelli 3d tradizionali e collaborando sempre all'interno di un ambiente integrato e facendo sì che la polilinea di discontinuità basta che sia interna non devo metterci codici nulla basta che sia interna alla poli e visibile soprattutto perché se su un layer spento non viene considerata basta che sia interna e visibile a polilinea eccetera dopo si automaticamente la utilizza e la inserisce come polilinea di vincolo nel nel calco dei modelli 3d per cui in questo caso nell'elaborazione del modello 3d del terreno utilizzerà i punti della nuvola utilizzerà i punti che ho rilevato con gps e utilizzerà le poliline di vincolo che inserito all'interno per cui non solamente punti della nuvola ma tutti i dati ulteriori che possono andare ad integrare per rendere il mio modello 3d più omogeneo possibile quindi questo è il modello 3d pulito dalla dalla vegetazione da questo modello 3d nuvola 3d sono andato col comando crea oggetti e utilizzato il comando crea dtm a densità variabile ho selezionato la mia polilinea chiusa compare questa finestra nella quale il programma mi invita a selezionare il layer nel quale generale tm la densità percentuale ovviamente più o meno la densità percentuale più in triangoli sono piccoli e maggiore sarà il numero dei triangoli è la metodologia di calcolo due parole sulla metodologia di calcolo per creare le mesh dalla nuvola di punti esistono fondamentalmente due algoritmi l'algoritmo di poisson che è quello che utilizzano i programmi di mesh metashape mesh lab e altri che lavorano fondamentalmente sul 3d immaginate immaginate di avere questa nuvola di punti e inserire all'interno di un sacchetto di plastica da questo sacchetto di plastica iniziamo a aspirarci l'aria no e questo qua inizia ad aderire alla nuvola di punti immaginatevi mentalmente questa cosa l'algoritmo di poisson lavori in questo modo qua prende e più più diciamo aumento il la precisione più aspiro aria e più il mio sacchetto va a diciamo ad attaccarsi e la nuvola di punti e a creare il modello 3d questo è l'algoritmo che funziona in generale ma è più adatto alla ricostruzione di modelli 3d quindi viene utilizzato appunto su metashape eccetera quindi se devo costruire il modello 3d della statua modello 3d del fabbricato e così via questo è il più adatto per la topografia non si utilizza il metodo di poisson ma si utilizza il metodo di un altro matematico che è un matematico francese della nuit che è un altro tipo di approccio ovvero è specifico per il terreno quindi cos'è come funziona fondamentalmente si prendono tutti i punti da triangolare questi punti vengono proiettati su un piano e poi su questo piano di proiezione il programma e costruisce i triangoli il la diciamo la metodologia di calcolo sta appunto nella scelta di questo piano di proiezione di punti generalmente la maggior parte dei programmi utilizza sempre il piano x y non vero proietta i punti sul piano x y e su questo poi costruisce la nuvola di punti topos da anche la possibilità e questo qua diciamo è la diciamo l'opzione standard che più o meno fanno tutti e topos da anche la possibilità di utilizzare un piano di proiezione diverso dal piano x y non supponiamo che abbia una parete parecchio inclinata no mare anche con sporgenze con con rientranze capite che ricostruire proiettare tutto questo qua sul piano x y alla fine non si fa sì che non non si ottiene un risultato proprio corretto in quel caso appunto dovesse essere di fronte a una moduna nuvola di punti di una parete quasi verticale con rientranze eccetera allora è auspicabile utilizzare questo tipo di calcolo perché con questo tipo di calcolo del programma va a creare un piano di proiezione ai minimi quadrati compatibile con l'orientamento della nuvola e su questo poi va a costruire triangoli per cui va a costruire un modello 3d che è più fedele a quella che è poi la per così dire il la realtà della nuvole quindi una volta fatto ciò do il pasto al programma programma vabbè l'opzione vincola triangoli su polilinea esterna nell'elaborazione modello 3d il programma utilizza anche i punti della polilinea che ho tracciato elimina triangoli lunghi e stretti vabbè quello insomma si capisce insomma cosa se non sto a specificarlo una volta elaborato il calcolo dovrebbe essere questo se non ricordo male ok il programma genera un modello 3d di questo tipo che rappresenta il appunto il modello 3d del terreno da questo modello 3d poi ci sono curva di livello volumi e tutto quello che sta dietro altre opzioni che ha a disposizione il programma sono quelle di creare un dtm su punti ad una maglia allora faccio faccio un esempio questo qua magari se riusciamo a farlo al volo allora o questa nuvola qua e supponiamo che adesso devo creare un modello 3d vediamo se c'è un layer libero tutti i layer occupati vabbè maglia andiamo adesso a creare nuvola nord est larghezza della maglia 4 metri allora in questo caso il programma cos'è che fa il programma va a dividere questo caso vado a creare quel modello 3d che abbiamo utilizzato prima per interpolare il terreno ovvero va a creare modello 3d con una maglia di 4 metri prendendo il punto di quota minima posso scegliere anche il punto di quota massimo quota media quindi all'interno di questa maglia di 4 metri il programma va a prendermi un punto di quota minima e questo utilizza per fare modello 3d lo facciamo al volo adesso questi questi calcoli qua insomma che sono abbastanza veloci posso permettermi anche di farli di farli in questo modo il programma qua ha creato un modello 3d basato sulla maglia regolare nella quale ha preso quindi questo è rappresenta il modello 3d del terreno che poi il programma adesso quello abbiamo creato ha utilizzato sull'algoritmo di istruzione del terreno per come punto di partenza per dire quali punti sono terreno e quali punti sono vegetazione per cui ha praticamente utilizzato questo quindi il modello a maglia quadrata che ha la posso posso creare che questo modo utilizzando questo qua diciamo rappresenta per chi necessita necessità di di grossa precisione rappresenta una buona approssimazione visto calcolate in maniera veloce rappresenta una buona approssimazione di quello che può essere il terreno insomma per cui se io ho bisogno di avere al volo una nuova di punti con tanta vegetazione non mi interessa la precisione voglio vedere più o meno come il terreno questo è un ottimo metodo per restare del terreno e vedere sul modello 3d altre altre opzioni bon la creazione di punti cad e creazione di dem limite poi li vedremo se faremo di fare un altro webinar queste cose quale vedremo l'estrazione della nuvole l'abbiamo vista assi poi c'è anche volevo farlo ma non abbiamo tempo ma limite vi rimando vi rimando su un video l'estrazione anche questo caso abbiamo trattato solamente nuvole 3d derivanti da rilevi fotogrammetrici nuvole 3d in ambito topografico però la possibilità di utilizzare anche programma per estrarre nuvole di punti derivanti da per così dire rilievi di edifici eccetera allora in quel caso esistono funzioni specifiche per poter estrarre facciate per poter estrarre sezioni e così via insomma ci sono di video su youtube specifici sull'argomento sì ultima cosa ultima cosa che non che non ho fatto vedere prima per quanto concerne le nuvole di punti si possi possono ci posso agire sulla proprietà delle nuvole quindi andando qua selezionarmi la nuvola se voglio modificare i layers voglio modificare il il nome così via o se voglio modificare anche la trasparenza posso anche giocare sulla trasparenza dei punti della nuvola quindi e posso anche creare dei punti trasparenti come in questo caso adesso qua si vede poco perché c'è lo sfondo nero però in questo caso i punti della nuvola se supponendo che avessi sotto nel dei raster qualcosa da visualizzare posso giocare sulla trasparenza rendere trasparente anche la nuvola non solo altra cosa interessante che mi ero dimenticato di dire poi poi do la parola a per video spazio le domande è quella la possibilità di modificare il colore qua su topo c'è la possibilità di mettere una vasta gamma di colori della nuva quindi colori reali monocromatica una colorazione interessante la gradazione altimetrica che mi consente di visualizzare le parti alte e le parti basse base al colorazione della nuvola di punti diciamo queste diverse colorazioni mi consentono magari di mettere in evidenza quei particolari della nuvola che solamente i colori reggb non sono visibili che ne so se andiamo qua cos'è questa che ne so andiamo su mappa delle saturazioni un esempio magari metti in evidenza di particolari tipo vegetazione eccetera che occhio nudo non sono coloro con l'rgb non sono visibili per cui non non in questa fase ma queste funzioni sono anche visibili andiamo qua su modifica edita punti della nuvola andiamo terreno nord est ecco qua diciamo queste funzionalità si trovano anche nei menu di selezione anzi qua sono molto più semplici da da selezionare tonalità di rosso tonalità di blu e così via queste mettono in evidenza dei particolari della nuvola che magari con solo il colore col colore reggb non sono visibili quindi i vari ti permettono di selezionare in maniera più semplice determinate determinate zone di vegetazione di terreno che magari con solo colore reggb non riesco bene a individuare per cui anche anche questo aspetto della della per così dire delle varie colorazioni mi dà la possibilità appunto di agire scusatemi sulla sulla selezione della nuvola meglio sulla selezione di punti per poi le operazioni di pulizia come abbiamo visto insomma per cui altra altra funzione questa qua che volevo farvi vedere quindi i colori e così rimettiamo colori reali eccetera niente ho parlato per un ora un quarto spero di vi sia piaciuto e tre cose da dire sono tantissime quello me ne rendo conto però insomma in questi incontri qua poi si iniziano a essere pesanti per voi non essere pesanti per me eccetera mi interessa solamente dare degli input così un aspetto importante mi piace curare in questi casi anche l'interazione direttamente con voi che mi state seguendo per cui se avete se avete domande in questo momento sono qua parlate oro tacete per sempre come come si dice non è non è la circostanza questa però insomma possiamo approfittate insomma che mi avete che mi avete a tiro per troppo scatto veniamo dai un po di domandine ci sono e so come le sono perse vediamo un po che vado un po indietro allora allora qua sì che parliamo di pc workstation sì boh vabbè per non per non allora generalmente i computer che vanno bene per il gaming quindi schede grafiche ram così via sono anche quelli che meglio si prestano l'elaborazione ma non tanto non tanto su topos parlo sull'elaborazione di software di start to from motion vedi metashape vedi pix4d vedi 3d zephyr e company allora quelli fanno fanno uso della scheda video per elaborare i dati topos non fa uso diretto della scheda video per cui se doveste se doveste scegliere un computer diciamo ottimizzato per topos la scelta migliore è quello di scegliere una cpu con elevato frequenza di clock ma di quelle overclock abili che si possono portare insomma i famosi hertz di 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 questi diciamo sono sono i computer i processori che meglio si ottimizzano per topos paolo mi chiede dimensione dei punti della nuvola se non l'ho fatto vedere prima se vado su proprietà e vado a selezionare qua c'è l'opzione dimensione punto della nuvola e si può può selezionare la dimensione in questo caso di standard e due pixel ma posso anche aumentarla se mettiamo 3 per dire è un po aumentare per cui si può si può agire in tal senso ogni nuvola diciamo la dimensione di pixel della nuvola è specifica per la singola nuvola quindi una nuvola posso visualizzarla con un pixel l'altra con tre e così via per cui non è non è specifica per il programma ogni nuvola c'è proprio app più specifico per cui vado su proprietà in questo caso qua vado a mettere insomma la dimensione di pixel il pc questo qua è un pc che ho acquistato sarà due anni fa anche più è un i7 con 32 giga di ram è una scheda grafica nvidia adesso una geoforce 10 60 vado a memoria l'ho preso sono dato su un negozio una volta i computer mi assemblavo io adesso non c'ho più voglia non c'ho più voglia non c'è più tempo non c'ho più voglia per cui vado vado prendermeli pronti e qua in zona c'è un negozio di cui non sono tantissimi però sono quelli che ti assemblano i pc e specializzato appunto sul gaming sono andato lì ho detto guarda più o meno mi sono queste caratteristiche mi hanno assemblato insomma falso sporco lavoro metà shape versione standard è possibile creare la mesh ortofoto la mesh la mesh mi sembra di no però non ha senso importare la mesh su topos perché poi la e sarebbe un dato che non è gestibile perché come dicevo poc'anzi la mesh sui programmi di stratum from motion viene generata con dei presupposti che non sono topografici ma sono dei presupposti e puramente di modellazione 3d generica per cui poisson della nui poisson non va bene per la topografia mentre nella nui si topos utilizza della nui metà shape utilizza poisson giusto per dirla così per cui è utile importare direttamente la nuvola densa non ho fatto non ho optato per parlo di pf francesco antonio sulla classificazione delle nuvole all'epoca hanno optato per per la divisione in sotto nuvole perché ho visto che la gestione alla fine alla fine la classificazione è anche la stessa non è che perché quando vado classificare una nuvola mi visualizza solamente i punti della relativi e poi la classificazione sulla gestione del di topos mi sono trovato meglio a suddividere in sotto nuvole perché questa poi mi dà la possibilità di non è non nel dettaglio insomma di gesto però insomma il concetto è lo stesso sotto nuvole classificazione non escluso poi domani che va ad implementare anche la classificazione però alla fine il risultato cambierebbe poco stefano mi chiede importare allora su topo se impossibile è possibile importare l'ortofoto ma è anche possibile crearla se vado qua su crea oggetti e creato foto vado a selezionarmi la nuvola di punti in questo caso nuvola nord est e il programma va a fare un primo ordinamento della nuvola dopodiché mi propone guarda il fattore di scala metri pixel e il colore di sfondo dell'ortofoto per cui andando su conferma il programma mi va a creare l'ortofoto però un orto foto un termino diversa da quella che crea meta shape perché topos ma come anche tanti programmi che sono i punti crea l'ortofoto partendo dai pixel della nuvola di punti per quanto concerne allora se devo andare a rilevare la formica sull'asfalto è chiaro che mi serve la foto fatta in alta risoluzione da meta shape se il mio scopo non è quello di rilevare la formica sull'asfalto non è quello insomma di fare topografia normale e allora va benissimo anche l'ortofoto generata da da topos adesso qua non vado a fare il calcolo perché sono precipitare un po di tempo ma insomma avevo qua delle ortofoto anzi avevo sto lavoretto qua lo apro così eccolo qua e soccine che era un po ad aprirlo perché è un file grosso con tante ortofoto questo è il rilievo fotogrammetrico di una cava a possagno siamo una cava bella grossa siamo un chilometro e sei per un chilometro e sei per cui insomma bella tosta e per le rilevarla lo è stato ascoltate fatte sette nuvole di punti però poi c'era anche altra vegetazione è stato messo certo diciamo utilizzato al pieno la la fusione delle varie delle varie modalità quindi nulla di punti rilievo tradizionale e così via e questo per dire qua poi sono state generate da topo ho generato anche delle ortofoto vabbè andiamo a eccola qua dalle varie sottonuvole ho generato delle ortofoto queste ortofoto poi sono state unite con il comando raster c'è la possibilità qua di unisci con le trasparenze poi sono state unite è stata creata poi un'unica ortofoto che adesso vediamo questa è l'ortofoto di una singola nuvola ma se andiamo a zoomare abbastanza si capisce qua insomma che che un'ortofoto generata dalla dai punti però voglio dire se non è il mio scopo come dicevo prima non è quello andare a beccare proprio particolare sono sono ortofoto che 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 va benissimo insomma volevo vedere se trovavo che sia questa non mi ricordo più speriamo no avete pazienza un secondo che una cosa che ho fatto un bel po di tempo fa per questo non mi ricordo nemmeno questa questa forse no boh l'ho chissà dove l'ho buttata eccola qua alla fine unendo le varie sotto le varie ortofoto generate dalle sottonuvole con il comando unisci del raster ho ottenuto questa ortofoto globale che vista così togliamo le curve di livello dov'è che ci sono qua le curve ci sono troppi layer dove sono vedo che i layer sono qua curve principali andiamo a ok a ordinarle eccole qua insomma dai a è un ortofoto che ha il suo perché insomma non è non sarà con la definizione che si fa lì però insomma ai scopi che 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 servono noi è diciamo ottimale sì la nuvola di punti è un oggetto 3d per cui si può visualizzare nel 3d non l'ho fatta vedere però insomma andiamo a caricare una nuvola la nuvola è un oggetto 3d e come tale viene visualizzato per cui non non c'è nessun problema non l'ho fatto prima però insomma non ci ho pensato ecco come si crea una sezione su nuvola una sezione su nuvola cortofoto dietro la facciamo vediamo se riesco a farla qua dai sì faccio il volo allora andiamo un layer bacino andiamo su sezioni sezione semplice la chiamo S1 la calcoliamo la sezione adesso la calcoliamo sulle sulle poliline posso calcolarla anche su nuvola ma adesso vi faccio vedere sulle poliline perché visto che la calcolate a più 6 sì scuro di livello andiamo a disegnarci la mia sezione quindi la facciamo da qua qua ok ah perché qua ci sono vediamo qua in planimetria perché mi fa sta cosa ah sì perché ci sono questa linea rossa qua che cos'è disegno ipotesi concessione che è una polilinea che non sta lì andiamo qua no c'è ancora qualcosa che non mi fa fare il calco c'è qualche polilinea in giro probabilmente o è questa vediamo nel limite comunale c'è anche quello ok andiamo a vedere adesso ecco ok c'erano delle poliline che avete il calcolo dinamico basta togliere l'entità che rompe le scatole e automaticamente viene rilaborata a questo punto vado sezione su nuvola calco la sezione su nuvola vado a selezionarmi la nuvola se non sbaglio era nuvola 7 no, il nuvolo era questa qua no, 5 sì un po' di pazienza che faccia un piccolo calcoletto eccola qua questa è la sezione su curve di livello con dietro con dietro la nuvola se voglio posso andare a modificare la profondità quindi solamente eccetera così via qua come vedete le curve di livello sono state calcolate sul terreno questa qua c'è vegetazione per cui dove c'è terreno vedete che la curva di livello torna più o meno dove non c'è terreno c'è vegetazione la curva di livello va giustamente sul terreno e non sulla curva e non sulla vegetazione volessi volessi adesso andiamo a qui lo faccio al volo crearmi la sezione con l'ortofoto dietro vado semplicemente su in porta su CAD vado a mettermi vabbè me lo faccio 200 qua adesso sembra creato un nuovo disegno e così via clicco conferma vado a mettermi la sezione qua poi ho dovuto creare un nuovo disegno eccetera per diverse scale ma insomma c'è un video importare l'ortofoto è automatico il programma nel momento in cui il programma si accorge che c'è una nuvola mi dice boh creiamo l'ortofoto ok abbiamo un po' di pazienza e poi vediamo l'ortofoto intanto vediamo altre domande se si può creare una tavola di secco e dvg compranematica profili e sezioni come esattamente come sto facendo adesso insomma quindi andiamo qua su temporanei sezione 1 sezione 2 eccola qua evidentemente con sfondo bianco perché se poi vado a stampare a plottare lo sfondo nero non è adatto insomma comunque la colore di sfondo quando ho creato l'ortofoto posso scegliere il colore di sfondo in questo caso di default era bianco ho lasciato bianco questa è l'immagine ora facciamo così così poi si capisce meglio andiamo su aspetto mettiamo provvisoriamente lo sfondo bianco ecco così diciamo ha più senso questa è l'immagine della nuvola plottata quindi posso crearmi più sezioni di questo tipo quindi farle cartiglio stamparle così via noi file rcp di recap non li importa perché sono file proprietari così via qua bon antonello antonio mi chiede l'altezza del volo del drone e qua sarebbe da fare tutto un discorso legato al terreno legato alla 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 risoluzione a terra legato a dimensione e così via diciamo tendenzialmente si si vola dei 35 50 60 metri in funzione appunto della di che cosa ma ripeto non è un limite poi faremo faremo qualcosa specifico per quanto concerne no per anafi non ho mai mi chiedono per supporto di droni anafi i parrot non li ho mai implementati ho all'epoca lavorato su DJI continuato a lavorare su DJI non escluso che in futuro li supporti però ripeto le cose da fare sono tante devo darmi anche delle priorità il drone utilizzato per lavoro allora su questa cava qua è stato l'ho fatta con il mio phantom 3 e col phantom 4 di un altro studio tendenzialmente all'epoca io ho tendenzialmente io lavoro sempre su ho all'epoca ho acquistato un vecchio phantom 3 vecchio insomma l'ho acquistato nuovo ho pagato 1200 euro dei primi phantom 3 standard che uscivano un po' di anni fa mi va ancora benissimo e continuo a utilizzare quello insomma per cui ma adesso insomma sono droni che non hanno problemi anzi non ho aggiornato apposta il firmware perché adesso aggiornando il firmware dei phantom DJI ti buttano dentro il no fly zone quindi non si decolla niente io ho tenuto il firmware vecchio di due anni fa l'app vecchia di due tre anni fa per cui riesco a barcamenarmi in situazioni che magari poi con i nuovi i nuovi eroni quindi me lo tengo ben stretto anche per questo motivo qua sì tanti 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 mi chiedono quale il discorso del GSD costante sì il GSD perché probabilmente nei vari corsi che avete fatto eccetera non sono l'unico che fa tutti fanno la testa con questo GSD sì il GSD è importante per insomma tante volte tante volte per esempio su questa cava qua non è che fai andare su e giù il drone perché per far andare su e giù il drone devi avere devi avere un modello 3D del terreno affidabile ma siccome molto spesso il modello 3D del terreno sotto non è affidabilissimo e allora fa andare su e giù il drone in automatico su qualcosa che è una affidabile io personalmente non lo faccio molto spesso si sceglie sempre un compromesso che ne so se devo volare una quota media di 35 metri parto nel punto più alto che ne so a quota di 10 metri e cerco di mantenere un intervallo di scatto una sovrapposizione maggiore rispetto quindi non tanto fondamentalmente è il programma di stato from motion più foto gli dai meglio lavorano magari ci piegheranno più tempo per fare l'elaborazione però alla fine il risultato lo portano a casa per poter far andare il drone su e giù bisogna avere primo modello del terreno affidabile e poi che abbia senso allora nell'ipotesi in cui devo fare il rilievo di un versante o di una montagna in cui tutto è discesa allora nel qual caso posso fare le varie strisciate parallele diciamo alla montagna quindi faccio una strisciata a quota costante mi abbasso un'altra strisciata a quota costante mi abbasso e così via allora in questa situazione ha senso nelle altre situazioni nelle altre situazioni la sezione sulla nuvola spettacolare sì spettacolare per fare per fare presa sul comitente quello è vero perché molto spesso chi non macina di topografia gli fa vedere una sezione ti guardi in faccia si fa vedere una sezione così non tutte perché magari è impulsabile farle tutte però farne qualcuna random così dargliela al comitente è un piccolo valore aggiunto che insomma ti aiuta ecco avendo l'ortofoto magari anche da metashape si possono aggiungere direttamente di punti topografici sì si possono aggiungere di punti topografici faccio l'ultima cosa poi torniamo 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 qua se ho la nuvola di punti nuvola 5 era ok perché l'ho spenta ok quindi attivando se vado qua su impostazioni generali sistema quota z pieno cad da nuvola di punti sottostante vado qua su topografia punti cogo punti su griglia regolare gli dico guarda fammi il punto qua in alto a destra che ne so nome di partenza punto scrivo punto mille passo lungo x facciamo 10 metri passo lungo y meno 10 numero di righe adesso non lo so facciamo 10 sto sparando a caso numero colonna 10 adesso qua ci impiega un po' di punti però il programma adesso va a creare questa griglia di punti appoggiata alla nuvola sottostante perché adesso sta creando una serie di punti topografici che sono appoggiati alla nuvola questo per rispondere a Stefano ok Leonardo ci saluta un saluto grazie a tutti un po' chi nel frattempo ci hanno abbandonato sono le 6 e 10 il futuro è andare a casa questo per il momento ci tocca niente insomma dai spero che questa chiacchierata vi sia vi sia piaciuta l'avete trovata utile è buon è avuto fuori una schifezza perché ho scelto proprio 10 metri eccetera però il concetto è questo avendo impostato avendo impostato ho messo dati proprio proprio a caso avendo impostato il sistema da nuvola di punti sottostanti avendo creato una maglia di punti il programma li va ad appoggiare automaticamente la nuvola adesso li ha appoggiati su nulla perché la nuvola non c'è però lo scopo è creare una maglia regolare di punti topografici su nuvola questo questo è il metodo ecco niente per cui ok ci aggiorniamo al prossimo webinar adesso mi inventerò ma diciamo cari finché non ci danno non ci danno la libera uscita direi che che so creare un appuntamento fisso che può essere il giovedì o venerdì per fare una chiacchierata assieme di quale avete un'oretta un'oretta e mezza due ore buona limite se avete qualche argomento ho mandato un'email oppure su facebook sul sulla pagina mandatemi insomma qualche 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 input io mi invento io ci penso qualcosa ma se avete qualcosa qui gradireste vedere non fate altro che dirvelo poi o mai vedo di organizzarmi ovviamente si tratta di argomenti da sviscerare in un'oretta in un'oretta in un'oretta in mezzo al massimo non ditemi e farmi un corso di fotogrammetria eccetera perché capite che è impossibile però insomma se avete qualche qualcosina da chiedermi fatelo per me è utile insomma dai ok niente insomma dai vi saluto statemi bene bocca al lupo per tutto ah sì vi ricordo che c'è per chi non è cliente la promozione in corso per cui se avete clienti amici che vogliono acquistare topos sappiate che questo può essere un momento propizio così insomma uno a tempo sia per imparare perché il tempo libero ti dà la possibilità anche di avere di parare ad utilizzarlo per quel momento in cui l'attività riparte eccetera per i clienti di vecchia data del 2003 io gli aggiornamenti li faccio sempre per chi sa insomma uno sconticino lo faccio sempre insomma tutti non è tanto insomma una lotta tra poveri non è che 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 si giro in Ferrari io non pensatemi ho una Lamborghini e non una Ferrari si voglio dire insomma ognuno fa sbarca lunario come vede io cerco insomma di venire e mi incontro voi venite e mi incontro ok per avere indicazioni economiche Fran Vincenzo semplicemente mi fa una mail nella quale mi indichi guarda voglio sono interessato a questi moduli oppure mi dici guarda faccio questo tipo di lavori o se no una telefonata 0434 63 1100 qua c'ho il cellulare in questo momento chi mi ha chiamato adesso non ho risposto perché stavo facendo il webinar insomma se non sono impegnato con il webinar rispondo e niente insomma dai si ok te la lascio andiamo andiamo a fare andiamo a fare quattro sgommate con la Lamborghini dai ok dai ragazzi statemi bene vi chiamo tutti i ragazzi anche se immagino sono tutte le età insomma mi piace interfacciarmi così buona serata e niente insomma dai al prossimo webinar ah si lo sto registrando per cui appena avrò tempo lo pubblicherò lo pubblicherò su youtube per cui avrete modo di per chi si è perso qualcosa avrete modo anche di seguirvi ciao a tutti di nuovo alla prossima ciao